E' moveri? E' moveri? E' mezzanotte ancora andava nì? Patetezzi Aldù, c'è gente si ha telefonato sono stato con due femmine, non le ho viste tre ore, non so specchio si hanno fatto la doccia, si hanno imparfumato ma la roba è che ero vecchia in salano, la roba è ancora andava nì Ma mamma, mamma, io non so per la televisione, un diretto La televisione? E' che non c'è no ma? E' Aldù? E' Aldù? Aldù, a proposito, com'è andata la tua avventura? E' una chiave! E' una chiave! Perché? Io ci sono chiuso appunto a me E' beh! Ma ci hai pagato il pinno, ma ci hai messo la crema Aldù, ti voglio bene, frate, ti hai pagato il pinno, va bene questa crema, questa pomada che tu hai fatto, manca di denaro che devo mettere per gli tirare un altro, e ci stai a meravano Ma ci hai provato? E' beh! Ma con una figura di niente non ci hai combinato proprio niente Aldù, perché tu non tieni cervello, non tieni astuzione, non tieni furbitante Ma perché? Tu che fai? Io ce l'ho messo a chi lo servizio potestamente Tu? Ehi, ehi, ehi E come hai fatto? Aldù, io non so chiudere proprio Anche il bello, Aldù Anche il bello Anche il bello Anche il bello Anche il bello